La squadra dei detenuti di Solliciano contro gli anelli mancanti, la formazione dei richiedenti asilo della WISP. Oggi nella casa circondariale Fiorentina l'incontro di calcio nell'ambito del progetto Sport in Libertà alla squadra dei detenuti consegnate le maglie della Fiorentina. Roberto Vigiani. Il calcio come strumento di integrazione ma anche veicolo di riscatto sociale. Vedere le maglie della Fiorentina indossate dai detenuti di Solliciano fa un certo effetto ma rafforza ancora di più lo spirito di collaborazione tra la società Viola e il carcere fiorentino. Il nostro dovere è quello di dare un contributo a che questi ragazzi che vivono momenti di difficoltà possano passare dei momenti invece di gioia e magari trovare ulteriori elementi per riscattarsi. Noi siamo estremamente grati per la vicinanza a Solliciano dell'intera squadra e della società e credo che il rapporto che si è costruito negli anni e si continuerà a costruire va oltre il semplice tifo ma spero che sia sempre più un rapporto di affetto. E il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica a consegnare le divise da gioco ai detenuti che le indossano con grande piacere ma anche con la soddisfazione di rappresentare i colori della città. Lo si vede appena entrano in campo per affrontare gli anelli mancanti formazione composta da richiedenti asilo della WISP. Credo serva a tutti e due sia a chi è detenuto sia a chi è libero ma che può trarre un momento un insegnamento da quello che è una giornata come oggi. Oggi è una giornata un po' particolare per i detenuti di Solliciano. Lo sarà ancora di più il 13 maggio quando avranno l'opportunità di assistere la gara casalinga della Fiorentina contro il Cagliari. Nel frattempo approfittando della presenza del vicepresidente della società Viola si parla anche di calcio vero e della partita di domani contro il Napoli. È un evento, deve essere un evento di sport. Tutto il resto ovviamente conta poco. Quello che è importante è che le due squadre domani disputino una grande partita dopodiché non me la sento neanche di dire vinca il migliore. Vedremo, vedremo. Noi ce la giochiamo perché noi abbiamo ancora molte chance.